L'apri tu oggi, io vengo dopo. E tua figlia? Riuscite. Quest'anno deve fare gli esami e non sta mai a casa. Devono trovarsi un lavoro pulito e sicuro, questi giovani. Se resta qua, mi indovisci a stocco tutta la vita. Qua non c'è niente. Grazie. I parenti a Torino si sono sistemati. E lì ci stanno le scuole buone. E il lavoro. Ce ne possiamo andare. Gianni, ma fottemi fratello. Tuo fratello non ti lasciava mai sola. Quando ti ha vista appena nata, ha detto che eri sua. Papà non ne parla mai. Se le cose non le dici, non ti possono fare male. Nonna, cosa è successo? Niente, gioia mia. Nel sud è niente. E niente succede. Niente, gioia mia. Grazie a tutti.